Back in ETV Ciao a tutti e benvenuti a Balconi TV Sassari Io sono Laura e oggi con noi a farci compagnia ci sono gli Arawak Ciao ragazzi Ciao a tutti voi di Balconi TV Cosa ci farete sentire oggi? Suoniamo un pezzo che si intitola Arawak We are Weird Fun Ok, enjoy the show Ciao a tutti 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 Ciao a tutti